Eccoci, allora buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento del ciclo di presentazioni di volumi che, diciamo con cadenza più o meno regolare, o più o meno irregolare forse dovremmo dire, organizziamo come Istituto Storico Italo-Germanico. In quest'occasione l'iniziativa è il frutto della collaborazione con la Fondazione Museo Storico del Trentino, con cui ormai da tempo condividiamo alcuni interessi di ricerca e condividiamo l'organizzazione di seminari ed eventi, incontri come questo. E saluto anzitutto gli ospiti, Andrea San Giovanni, autore del libro che presenteremo oggi. Buongiorno a tutti. E Sara Zanatta, collega appunto della Fondazione Museo Storico del Trentino, con cui abbiamo pensato di organizzare questo incontro e con la quale, peraltro, abbiamo organizzato un'altra iniziativa che aveva visto proprio il coinvolgimento di Andrea San Giovanni. Quindi quello di Andrea è un, diciamo così, è un graditissimo ritorno. Il volume che discutiamo oggi e che vi mostro qui, si intitola Specchi Infiniti, storia dei media in Italia dal dopoguerra a oggi, è uscito da qualche settimana ormai per Donzelli. Quella di oggi è la prima presentazione del libro e ovviamente però, per ovvia ragione, abbiamo scelto il formato webinar come, diciamo, giocoforza si addice a questo periodo un po' singolare. Nel libro, se non sbaglio, non si parla né di Zoom, né di Meet, né di Teams, ma probabilmente nella prossima edizione del volume, Andrea, sarei costretto a inserire anche un paragrafo su come, diciamo così, le videoconferenze hanno impattato sulle nostre relazioni, sulla didattica, sulle stesse forme della comunicazione scientifica. Quindi ecco, come capiremo, è un libro aperto che attende di essere chiuso anno dopo anno edizione, dopo edizione. Come si può comprendere dal titolo? Si tratta appunto di una storia dei media, o meglio, per dirlo, magari con una formula forse un po' più a effetto, ma ormai largamente in uso, si tratta di una storia dell'ecosistema mediale italiano dal dopoguerra sostanzialmente ad oggi. Accanto ad un'analisi dell'evoluzione dei singoli mezzi di comunicazione, e quindi già citati radio, cinema, carta stampata, fumetti, musica, web, forse ho dimenticato qualcosa. Ecco, accanto all'analisi dell'evoluzione di questi singoli mezzi di comunicazione, il volume di Andrea San Giovanni si occupa di ricostruire il ruolo, diciamo così, complessivo che i medi hanno avuto nella costruzione dell'immaginario, degli immaginari culturali dell'Italia del secondo novecento. Le angolature che Andrea ha scelto, diciamo così, per trattare il tema sono davvero molte, sono molto suggestive, e il volume si sofferma in particolare sul rapporto tra l'innovazione tecnologica e gli usi sociali dei mezzi di comunicazione, come pure sui modelli di gestione di controllo che la politica, le istituzioni hanno esercitato sui media. E non dimentica di riflettere anche sui processi industriali, commerciali, e sui processi culturali che, diciamo così, hanno segnato e caratterizzato gli sviluppi dei vari mezzi di comunicazione. Ovviamente per noi si tratta di un tema particolarmente interessante, visto che da qualche anno come Istituto Storico Italo-Germanico stiamo cercando di portare avanti una riflessione, diciamo così, a più voci sul rapporto tra storia e media, e più nello specifico sul ruolo che i media hanno avuto, diciamo così, nell'evoluzione dei processi storici. E quindi l'incontro di oggi si inserisce all'interno di una serie di appuntamenti che stiamo cercando di dedicare alla mediatizzazione della storia, in cui ovviamente cerchiamo di prendere il tema, esaminare il tema da prospettive differenti. Abbiamo immaginato, abbiamo pensato di articolare la presentazione in una forma molto dialogica, un po' per evitare, diciamo così, di imporvi degli interventi troppo strutturati, che forse non si adattano molto al mezzo che stiamo utilizzando, e un po' per usare, diciamo così, questa occasione, questo spazio come un'occasione per, diciamo così, riattraversare alcuni temi che vengono trattati nel volume, e riflettere possibilmente anche su alcuni snodi, diciamo così, teorici e metodologici che la ricerca di Andrà San Giovanni ha sviluppato. Come dicevo, sì, questa nostra conversazione seguirà, tendenzialmente immaginiamo di occupare una cinquantina di minuti con questa nostra chiacchierata, e poi apriremo la possibilità di intervenire a tutti quanti, vi chiediamo di utilizzare la chat, io e Sara ci faremo carico di gestire un po' il traffico e di girare le domande al nostro ospite. Prima di procedere, ovviamente, presento brevemente Andrea San Giovanni, che insegna storia contemporanea, storia dei media e public history all'Università di Teramo. Oltre alla, diciamo così, alla storia dei sistemi mediali, si occupa di culture politiche e di storia degli immaginari collettivi, tutte ricerche dentro le quali o nelle quali Andrea Piappone è in grande centralità al ruolo che i mezzi di comunicazione hanno appunto nella costruzione e nella definizione delle culture politiche o degli immaginari. Tra i suoi lavori ricordo Tutte Blu la parabola operaia nell'Italia repubblicana, uscito per Donzelli nel 2006, se non ricordo male, e un libro più recente, Le parole e le figure, storia dei media in Italia dall'età liberale alla seconda guerra mondiale, uscito sempre per Donzelli nel 2012, e di cui sostanzialmente il volume che presentiamo oggi è una sorta di prosecuzione, ma ce lo dirà meglio Andrea. Quindi nulla, direi di iniziare con questa nostra chiacchierata ricordandovi appunto di tenere chiuso l'audio. Dunque, personalmente trovo particolarmente interessante il taglio che Andrea hai dato alla tua ricostruzione e che appunto potremmo forse definire un approccio sistemico alla storia dei media. Tu nell'introduzione, se non ricordo male, lo definisci un approccio olistico. Sostanzialmente guardi ai media e al cosiddetto media ensemble come a un sistema socio-culturale complesso e quindi quello che risulta non è solo una storia dei media, ma è anche una storia dell'Italia degli ultimi 70 anni, sostanzialmente, vista attraverso il prisma dei media, vista attraverso la lente dei mezzi di comunicazione. E ogni capitolo dopo capitolo ricostruisci l'evoluzione che i singoli mezzi di comunicazione e più in generale il sistema dei media hanno conosciuto, hanno attraversato, ma ripercorri anche alcune delle direttrici, diciamo così, della storia nazionale. E vorrei partire da qualche questione molto generale che ci può aiutare a capire come è nato questo lavoro, come si è sviluppato, e quindi ti chiedo anzitutto a quali domande questo volume cerca di rispondere, intende rispondere. Da un certo punto di vista che uno storico contemporaneista scriva una storia dei media, ecco, forse non è un elemento poi così scontato. E quindi ti chiedo anche entro quale orizzonte storiografico ti muovi e si stanno muovendo le tue ricerche, e quindi all'interno di quale storia introduci e guidi il tuo lettore. Bene, grazie, grazie, intanto grazie dell'invito, grazie di questa presentazione, anche perché ci hanno colto molti punti che sono per me molto importanti nel lavoro e che non sono, fra l'altro, esplicitati in modo netto, insomma, sono un po' sotto traccia. Allora, sicuramente mi piace molto il fatto che tu abbia individuato e sottolineato appunto questa dimensione, questo tentativo di tracciare una storia d'Italia attraverso il prisma dei media. E credo che questo sia un tratto innovativo, anche se molto ambizioso, e quindi chiaramente questa storia non può essere una storia sistematica, ma chiaramente privilegia alcuni passaggi, alcuni momenti dove il ruolo dei media emerge con maggior forza e soprattutto rivela qualche cosa o aiuta a comprendere meglio alcuni passaggi che invece in altro tipo di ricostruzioni lasciano un pochino in ombra. Io appunto la credo che i media siano abbastanza sottovalutati dal punto di vista della storia contemporanea, questa non è una novità, appunto, visto che vi occupate molto e riflettete molto sul rapporto tra la storia contemporanea e i media è un po' anzi, direi che purtroppo è quasi una consuetudine, una costante, no? Ogni volta che ci si confronta con i media gli storici contemporaneisti italiani, in particolare proprio per la tradizione degli studi italiani, fanno fatica a capire quali sono, che potenzialità c'è dentro i media sia come fonti, sia come strumenti narrativi, ma anche appunto come angolatura di sguardo, diciamo così, prospettiva di sguardo. Questo è successo tradizionalmente con il cinema, è l'esempio, come dire, più clamoroso, no? Da questo punto di vista, e ancora oggi, molto spesso, benché il cinema sia accettato, diciamo, nell'accademia, tuttavia viene spesso utilizzato come una sorta di fondale, no? Oppure un'aggiunta di alleggerimento, diciamo così, al testo, come dire, guardate, che anche nel cinema c'erano queste cose. Ecco. Invece la prospettiva da cui mi pongo io è, diciamo, opposta a questa. Credo che, appunto, i media vadano studiati all'interno dello sviluppo sociale, culturale e politico e industriale, anche economico, di una nazione e mi limito ad una nazione semplicemente perché, come dire, le mie forze, le mie capacità non mi consentono di allargarmi oltre, ma chiaramente lo stesso discorso dovrebbe essere fatto sul piano internazionale e transnazionale, sicuramente man mano che ci si avvicina alla, diciamo, alla più stretta contemporaneità. Quindi, appunto, dicevo, credo che occorra ribaltare la questione e guardare i media, appunto, come una delle fonti possibili per capire meglio alcuni snodi della società. Quindi, tu mi dicevi in quale orizzonte mi colloco? È un po' difficile dirlo perché sembra sempre, diciamo, molto presuntuoso collocarsi da qualche parte, però diciamo così che tendenzialmente il mio interesse è prevalentemente orientato alla dimensione sociale e culturale. Quindi credo che i media possano dirci molto dello sviluppo sociale di un paese, dello sviluppo culturale e anche riuscire a aiutare a capire alcune trasformazioni profonde che avvengono sul piano culturale e sociale e che poi a un certo punto si manifestano all'improvviso invece attraverso delle azioni politiche, l'emergere di movimenti e così via. Gli esempi che si possono fare sono molti, sono vari e magari più in là, insomma, ne faremo qualcuno se è il caso di farlo per non pesantire troppo la risposta. Ecco, l'unica... quindi l'approccio è un approccio sistemico. Perché i media, l'altro problema con cui mi sono confrontato è il fatto che normalmente i media vengono analizzati singolarmente. C'è la storia della stampa, c'è la storia della televisione, c'è la storia del cinema, c'è la storia della radio, c'è la storia dei computer, poca, c'è la storia di internet, poca. Ecco, c'è la storia dei fumetti, quasi per niente e sicuramente non, diciamo, in ambito storico. Ci sono storie fatte da altri, diciamo, che non fanno di lavoro lo storico. E anche la storia del cinema, la storia della televisione e così via, sono spesso appannaggio di persone che hanno un percorso professionale non da storico e che aggiungono degli elementi storici a prospettive che invece sono differenti. Ma la cosa che non c'è, nonostante tutti ne siamo consapevoli, è un approccio, appunto, completo, diciamo, sistemico, che guardi all'interazione tra i media, all'interazione tra i media della società, ma anche alle diverse prospettive dalle quali si possono analizzare i media. E quindi la dimensione industriale è comunque legata al modo in cui un certo medium si diffonde o viene recepito. il, che ne so, la forza della distribuzione ovviamente orienta la, oppure l'organizzazione del sistema distributivo orienta il modo in cui i film si diffondono tra la popolazione, vengono visti, e quindi che tipo di riflesso questo può avere e così via, gli esempi sono, per ciascun medium c'è un esempio possibile. Quindi un approccio, quando giustamente hai sottolineato, che uso questo termine strano, olistico, no, per parlare dell'approccio, lo dicono tutti, veramente è colpito molto, diciamo, la fantasia di tutti quanti i lettori, non è mio, è una cosa che hanno usato per primi, per quanto io sappia, Grasso e Scaglioni, e l'ho ripreso da loro, però mi piaceva molto, perché appunto è un po' più che sistemico, no, fa proprio capire quanto tutti quanti questi diversi elementi, si fondano nel costruire un sistema complesso, che è un costrutto culturale complesso, e quindi ovviamente la prospettiva è anche quella della storia culturale, in qualche misura. direi che basta, avevo una prima risposta. L'affino io, allora adesso. No, allora, io ti auguro innanzitutto, visto che l'altro giorno, insomma, ci hai anche detto che uno dei tuoi pubblici di riferimento per questo testo, sono anche i tuoi studenti e le tue studentesse, io auguro loro di trovare in questo testo, diciamo, una fonte di spunti e di ispirazione, come è stato ad esempio per me il primo testo di storia dei media che ho letto quando stavo scrivendo la tesi di laurea, che non parlava di specchi infiniti, ma parlava di cultura sottile. Alla fine degli anni 90, Fausto Colombo, tra l'altro nel suo sottotitolo, aveva ancora bisogno di parlare di media e industria culturale, no? E proprio faccio questo riferimento perché l'indice di quel volume mi aiuta anche ad entrare nell'indice del tuo e magari farti raccontare anche il modo in cui hai strutturato poi effettivamente questo lavoro. Perché Colombo, e così anche molti storici dei media scelgono una scansione temporale, cioè prendono un'area di tempo, come dire, spannometrica e la collegano a cambiamenti mediali importanti. Tu in qualche modo nel tuo indice fai l'operazione contraria, cioè usi una scansione storica precisa, cioè 1945-1954, 1954-1957, 1957-1967, 1968-1975, 1976-1983, 1984-1993, 1994-2001. e caratterizzi la storia dei media secondo un frame storiografico per cui parli di rinascita, boom, presa della parola, fino a un certo punto, come se i media poi da un certo punto in poi diventassero così preponderanti da farsi anche nel tuo indice categoria storiografica, al punto che utilizzi ed adotti la terminologia classica di Ellis legata alla televisione, dalla disponibilità all'abbondanza per farne il titolo di un tuo capitolo. Quindi la domanda che ti faccio è come è avvenuta questa scelta rispetto anche ad altre storie dei media che avrai sicuramente letto e consumato e se ti è avvenuta anche ogni tanto la tentazione di non essere cronologico, cioè di abbracciare questo tuo approccio olistico da un altro punto di vista, quindi la dimensione dei pubblici, la dimensione della produzione culturale, la dimensione dei prodotti mediali e quindi in qualche modo c'è un modo di indicizzare più simile a certa sociologia della cultura e quindi di conseguenza come hai scelto i media che sei andato a raccontare, perché qualcosa di quelle butade in chat c'è, qualcosa effettivamente naturalmente manca. Per esempio, ma anche a cuore, e questa è una cosa che mi duole tantissimo, ho provato in tutti i modi a mettercelo, ma non ci sono riuscito. Cioè bisognava aprire un discorso che non potevo aprire, insomma. Allora, che domandona, accidenti. Dunque, intanto la prima cosa è che mi fa molto piacere questa citazione di Colombo, perché Colombo è stato, come dire, uno delle mie guide, insomma, da questo punto di vista, benché non lo conosca personalmente, ovviamente, ma insomma mi è stato molto utile e devo dire che anche a me ha rivelato molto quando ho lessi questo libro tanti anni, quando ho lessi il libro che hai citato prima la cultura sottile tanti anni fa. Allora, la questione della cronologia e dell'organizzazione dell'indice è stato un bel problema in realtà, perché effettivamente era complicato tenere insieme cronologie che in parte si sovrappongono e in parte invece divergono completamente. Quindi era difficile, è stato difficile trovare dei punti di contatto tra i diversi sistemi mediali, diciamo diversi media, il sistema mediale nel suo insieme e la vicenda italiana che tenevo sullo sfondo. Probabilmente questo, diciamo, anche questo cambiamento di focus che hai notato molto acutamente deriva anche dal fatto che, come succede spesso quando si scrive un libro di tante pagine, man mano si cambia anche leggermente prospettiva, no? Quindi probabilmente c'è anche questo elemento. Però diciamo che io ho cercato di mantenere tendenzialmente una cronologia che rispecchiasse la cronologia, diciamo, tradizionalmente accettata della storia dell'Italia repubblicana. Quindi le scansioni sono più o meno quelle, con qualche anno magari di scostamento appena appena. Ma ho cercato di farla collimare con delle grandi stagioni mediali, per così dire, no? in cui emergessero delle trasformazioni profonde. Ognuno di questi capitoli ha al centro comunque un'evoluzione del sistema. Tuttavia, inevitabilmente, questi slittamenti fra queste cronologie sovrapposte si colgono poi nella lettura. Cioè, in realtà, l'indice non rispecchia esattamente quello che poi c'è nei singoli capitoli. I singoli capitoli devono necessariamente, bisogna tornare un pochino indietro, andare un pochino avanti, sempre di qualche anno. Ma questo è, credo che sia del tutto naturale, visto che le cronologie sono una nostra invenzione, un modo per dare ordine alle cose. E invece questo mondo che ho scelto di raccontare non è ordinato, è estremamente disordinato. E soprattutto, volevo evitare a tutti i costi che, come dire, ci fosse una preponderanza della dimensione politica o istituzionale rispetto alle dinamiche dei media. Cioè, quando si dice appunto che la televisione è dominata dalla politica, è senz'altro vero. C'è una dimensione istituzionale e politica molto forte, però ci sono anche delle spinte autonome nella costruzione dei programmi e quindi anche nel modo in cui la televisione racconta il paese o rispecchia il paese, che vanno oltre questa volontà di controllo istituzionale. Questa tendenza, diciamo, al controllo istituzionale. Quindi c'è un tentativo di, come dire, sovrapporre più, diciamo, più prospettive possibili. Chiaramente non è sempre, non ci sono riuscito sempre, questo è del tutto inevitabile, anche perché la difficoltà è che ciascun, poi, comparto mediale ha la sua singola cronologia. Quindi ogni tanto, per esempio, mi perdo, perdo qualche cosa o tralascio, metto, come dire, sottotono alcuni aspetti per, invece, sottolinearne altri che mi sembrano molto più dinamici e in quel momento molto più significativi. Però questo porta, come dire, appunto a far emergere delle cose che spesso nelle ricostruzioni storiche, diciamo, di ampio respiro, o comunque, o meglio, in un senso comune storico vengono, appunto, date per certe e che poi invece non sono. Quindi, per esempio, il modo in cui racconto agli anni settanta è molto lontano dagli anni di piombo. Dentro ci sono anche quelli, evidentemente, c'è il terrorismo, ci sono i problemi che il terrorismo comporta a tutti i media, i riflessi che il terrorismo porta nel cinema e così via, il modo appunto in cui il cinema riesce a raccontare, forse a intuire ancora prima che emerga quella violenza politica diffusa che poi caratterizzerà la fine degli anni settanta, però non sono, non è l'unica cosa. Anzi, là dentro, in quegli anni, quegli anni dal punto di vista mediale, sono anni di estrema effervescenza che mostrano, secondo me, in modo molto chiaro, la trasformazione profonda dell'Italia dal punto di vista, per esempio, delle culture industriali, delle culture del lavoro, delle culture politiche, anche in qualche misura, perché io credo che ci sia una corrispondenza piuttosto marcata tra l'emergere delle televisioni prima private e poi il loro trasformarsi in televisioni commerciali prima dell'arrivo dei, chiaramente, dei, diciamo, dei grandi attori economici, quindi dei grandi editori o di chi diventerà da lì a poco un editore, quindi Berlusconi, però questa effervescenza, come dire, economica va di vari passo con la nascita e col rafforzarsi della terza Italia, quindi credo che ci siano proprio delle sovrapposizioni molto forti che mostrano che appunto l'Italia degli anni 70 non era soltanto l'Italia della violenza politica, ma c'era molto altro che quella violenza politica subiva e che quindi poi riprende, si riprende la scena poco tempo dopo, quindi in pieni anni 80. Quindi credo appunto che le due cose si debbano tenere insieme e quindi anche quando uso dei titoli che hanno più vicinanza con, diciamo, le interpretazioni diciamo di sociologia dei media o di storia dei media, comunque ho sott'occhio la dimensione invece storica. Io credo che la storia, cioè quello che manca, ecco scusa, chiudo poi subito la risposta, quello che manca veramente è la dimensione storica, questa cosa la diceva Giorto Leva tanto tempo fa. Se noi riusciamo a vedere i media con una profondità storica, riusciamo a capire molto di più sia dei media, sia della società nella quale questi media stanno. E ecco, ho cercato di fare mia questa indicazione di metodo. Riprendo la parola io. Un elemento su cui mi piacerebbe concentrare l'attenzione riguarda l'aspetto della cosiddetta intermedialità. Abbiamo visto i media non esistono da soli, sono sempre parte di costellazioni più generali, più complesse, e i media sono quindi sempre in relazione con altri media. a un certo punto, se non ricordo male, ti riferisci alla commedia, alla commedia dell'italiana come un genere intermediale. Ecco, la storia dell'interazione dei vari mezzi di comunicazione in fondo è anche la storia del costante riposizionamento dei singoli media all'interno dell'ecosistema mediale. E quindi, per fare un esempio, il peso che la radio ha nell'opinione pubblica italiana all'indomani dell'8 settembre è ben diverso dal peso che avrà negli anni di affermazione del mezzo televisivo. Allo stesso modo, il ruolo che ha il cinema nell'immediato secondo dopoguerra con la piccola grande rivoluzione del neorealismo è piuttosto diverso dalla funzione che il cinema ricopre nei primi anni Ottanta. O, restando magari a temi più vicini a noi e che ricostruisci con acutezza l'avvio del nuovo millennio, gli ultimi scampoli del secolo precedente sono, diciamo così, in buona parte attraversati da questo processo di convergenza mediale tra sistema televisivo e quindi un vecchio medium tradizionale, diciamo così, e il web e tutto ciò che comporta, quindi un nuovo medium. Ecco, come ti sei confrontato con questo aspetto dell'intermedialità? Qualcosa ce l'hai già raccontato, ma quali punti di forza e di eventuale fragilità ha una storia intermediale, transmediale come questa? Quindi quali difficoltà ha incontrato e magari cosa ha imparato da questo tentativo, appunto lo si diceva prima, di superare le barriere delle storie settoriali dei vari media e di tenere traccia invece dell'intreccio, della sovrapposizione e anche in particolare della concorrenza, diciamo così, che diversi mezzi di comunicazione palesano nel corso della storia, diciamo così, che hai ricostruito e riattraversato? Grazie, volevo far vedere al pubblico una cosa che è curiosa, diciamo, che ho cercato di imporre all'editore e cioè, non so quanto si veda bene, se volete poi vi cerco il file, abbiamo messo all'inizio di ogni capitolo questa, diciamo, rappresentazione grafica di una sorta di cronologia. Nell'altro libro c'era una tabella finale in cui cercavamo di mettere in fila tutte quante queste cose, però non funzionava bene e mi sono reso conto che una delle possibili difficoltà di questo, di lettura, della lettura di questo testo corrispondeva ad una delle difficoltà che avevo avuto nello scriverlo, cioè il fatto di essere costretto a recuperare sempre il filo del discorso ogni volta che dedicavo maggiore attenzione ad un medium specifico e quindi questo continuo spostarsi da un medium ad un altro cercando di tenere insieme, tenerli insieme tutti quanti in uno sviluppo complessivo e non armonico perché ovviamente essendo settoriale non può che essere disarmonico, però che procede come dire nella stessa direzione e più o meno con le stesse velocità poteva essere qualcosa di difficile. Ecco, e questa diciamo scamotage grafico credo che risponda in qualche modo alla tua domanda, no? Cioè il parte che appunto devo ringraziare gli editori e quelli che hanno lavorato perché non è stato un lavoro semplice, prima convincerli non è stata una cosa semplice ma poi soprattutto sono stati molto disponibili anche a immaginare qualcosa di diverso dalla loro insomma dalla dalla veste dei loro grafica dei loro libri. Allora ma a parte questo allora l'intermedialità secondo me o almeno il modo in cui ho cercato di coglierla deriva soprattutto da un punto di vista. se noi ci concentriamo sulla storia del singolo medium sulla sua dimensione linguistica sul suo sviluppo industriale sulla sua dimensione politica noi abbiamo appunto delle storie singole se noi invece ci spostiamo dal punto di vista del pubblico noi abbiamo una storia complessiva intermediale noi non vediamo mica mica ascoltiamo soltanto la radio ci può piacere di più la radio ma guardiamo la televisione anche magari non volendo comunque ogni tanto l'occhio ci va la televisione andiamo al cinema e così via leggiamo libri di letteratura alta leggiamo contemporaneamente romanzi di intrattenimento di puro intrattenimento e leggiamo i fumetti e le riviste invece i mensili sempre di meno ma insomma i mensili magari di approfondimento quindi questa io credo che se ci spostiamo appunto dal punto di vista del pubblico e quindi degli effetti che questo sistema dei media produce nella società ecco abbiamo proprio questa in modo molto chiaro questa dimensione intermediale e il tentativo che ho provato a fare è di tenere sempre presente anche quello che poteva essere il riflesso appunto nella società e questi sono gli specchi infiniti a cui si riferisce il titolo questo continuo gioco di appunto di scambio tra le diverse componenti del sistema mediale e la società nel suo insieme che poi ovviamente procede anche per scelte politiche che non c'entrano nulla con il sistema mediale questo è del tutto evidente ma nella sua appunto nell'evolversi della società io credo che questo riflesso invece sia molto sia molto forte e cerca appunto di tenere al centro un'altra questione che è appunto se i media riflettono la società oppure se la società è in qualche modo orientata dal modo in cui i media la raccontano non c'è una risposta univoca ovviamente a questa domanda ma ecco questa però è una delle stelle polari delle domande al centro del lavoro e credo che appunto ho cercato non so se ci sono riuscito ma ho cercato di spostare la prospettiva l'angolazione proprio per cercare una risposta a queste domande e certe volte in questi casi mi sono stati più utili i media meno come dire ben utilizzati quelli considerati minori rispetto a invece ai loro fratelli maggiori quindi più il cinema di serie B il cinema diciamo di consumo che il grande cinema autoriale più il fumetto del sistema librario tradizionale della letteratura e così via e più la musica pop che la musica cantautorale mettiamo conto questo spostamento dalla parte della diciamo così della maggioranza degli italiani e vedere le cose attraverso loro mi ha fornito diciamo credo delle chiavi interpretative che spero siano interessanti quindi per prendere un esempio che facevi tu è vero che l'8 settembre la radio gioca un ruolo determinante lì la radio è proprio agente di storia cioè se quella se l'armistizio non fosse stato raccontato non fosse stato diciamo reso pubblico in quel modo ma in altri modi e così via forse probabilmente ci sarebbero state delle reazioni differenti il fatto proprio che ci sia stato un blackout informativo come scriveva Forcella è stato determinante nel disorientare prima e poi nell'orientare poi alcune scelte ma ma non è che le radio negli anni 70 nel 77 siano state meno rilevanti eh Radio Alice viene chiusa perché la polizia ritiene che diriga gli scontri del appunto a a Bologna e poi si leggono tutte quante le appunto le trascrizioni delle delle conversazioni e ci si rende conto che non è che c'è una direzione in quel caso no? E questo secondo me ci dice molto ci dice molto del rapporto del pubblico con la radio di come la radio si sentiva e si proponeva come immersa nel movimento e quindi specchio di quel movimento oltre che parte ma non capo diciamo così non testa di quel movimento e ci dice anche però come le istituzioni vedevano sia il movimento sia le radio quindi ecco come dire abbiamo a un certo punto questo prisma che ci consente di vedere tante angolazioni diverse e quindi ci arricchisce molto il quadro cosa di cui soprattutto per quegli anni sentivo forte la necessità per farti entrare nello specifico di un altro capitolo il mio capitolo preferito è il quarto prendere la parola 68-75 perché affronti di petto una questione che è molto vera cioè il fatto che il lungo 68 come lo chiama Boato compare poco nelle storie dei media eppure anche lì quasi mi viene da dire soprattutto lì ha contribuito ad attivare una trasformazione di sistema e di forme comunicative specifiche creando anche dei cortocircuiti no? insomma vorrei che ci raccontassi un po' meglio questa cosa che metti bene in luce il fatto che è la prima generazione di massa che rivendica un effettivo ribaltamento di questo paradigma cioè rivendica un ritorno e una difesa dei media poveri una maggiore partecipazione circuiti alternativi e locali ma che allo stesso tempo è esattamente immersa ed è protagonista di un evento globale e quindi è evidente perché gli storici dei media stanno bene alla larga dal 68 perché scappa da tutte le parti e tu per primo in questo capitolo ogni tanto insegui quella tentazione di uscire dall'Italia perché è inevitabile questa cosa e quindi visto che appunto se ne parla poco da questo punto di vista e tu in questo capitolo ne parli così bene mi piacerebbe insomma che condividessi la narrazione che segue in questo capitolo anche con gli altri insomma a proposito di media poco utilizzati insomma mostrandoci come hai utilizzato anche delle fonti meno utilizzate in generale nella storia dei media ah beh ma però però questo significa che poverini non li mandiamo più via insomma stiamo qua tutto il giorno allora no no cercherò di essere breve allora secondo me ecco la risposta alla ultima parte della tua domanda cioè far vedere appunto come gli altri media quelli meno utilizzati meno seguiti possano essere molto utili è proprio nell'escamotage narrativo che ho utilizzato per aprire il capitolo cioè il titolo del primo paragrafo è una citazione dalla copertina di Linus quindi appunto la rivista che mette i fumetti al centro e che però uso non attraverso i fumetti ma attraverso le lettere e gli articoli gli editoriali di Oreste del Buono cioè quel quel materiale mi serve per mi è servito per cercare di prendere il punto di vista del diciamo così un doppio punto di vista il punto di vista di chi cercava reclamava il diritto alla parola e dall'altra parte il punto di vista di chi era simpatetico diciamo così nei confronti di questi ragazzi pur essendo fuori da quella generazione quindi ponendosi leggermente discosto da quella generazione ecco questo tipo di fonte che che io sappia non è stata mai usata credo o quasi mai usata ecco è per esempio un è un esempio buono di come si possa si possa trovare ancora molto altro si possono trovare delle risposte se noi cambiamo il punto di vista la hai perfettamente ragione quando sottolinei il fatto che qui stare in Italia non basta veramente più questo è un questo in realtà è un è un problema ampio anche nei capitoli in alcuni capitoli precedenti sono ho dovuto guardare fuori perché l'Italia ovviamente soprattutto avendo questo approccio culturale anche di storia culturale è chiaro che quelle culture arrivano anche da altri luoghi da altre culture vengono poi trasformate e adattate diciamo così al sentire italiano quindi nel capitolo precedente per esempio parlavo del rock and roll e così via allora questa dimensione secondo me è interessante è importante ma è anche importante il fatto che quella generazione è la prima generazione che ha una cultura informale costruita interamente dai media di massa se non interamente ovviamente perché c'è anche una cultura formale però la cultura informale costruita dai media di massa è il punto di contatto tra diverse diverse classi come si sarebbe detto una volta non usiamo più questo termine ma se parliamo del 68 va bene possiamo continuare a usarlo e quindi questa era una cosa che avevo già notato e che ho continuato e che continuo a convincermi quando avevo studiato appunto gli operai e il rapporto fra il movimento studentesco e gli operai appunto tra il 68 e il 69 e così via quindi la cultura informale che non è soltanto italiana e che viene veicolata dai media è quello che fa trovare le parole comuni per mettersi d'accordo e per e per condividere alcuni alcuni problemi l'altro elemento che secondo me è spesso sottovalutato sul 68 è la forza delle immagini cioè tutto quanto la parte legata ai manifesti e così via il modo in cui immagini semplici possano contenere invece una grande forza poetica narrativa e identitaria quindi su quello per esempio dedico alcune pagine no a questo aspetto e sono tutti quanti aspetti e questa povertà diciamo di questi strumenti come appunto i manifesti volantini tazzebao eccetera eccetera sono secondo me molto chiaramente collegati con il tentativo di raccontare quello che accadeva attraverso le fotografie ma anche attraverso i film il tentativo di Zavattini di fare questi giornali appunto filmati che poi viene ripresa che nasce qualche anno prima ma poi viene ripresa nel 68 anche dai gruppi operai che sono che magari fanno le loro lotte nelle fabbriche e che poi dopo si accorgono che non possono non sono capaci di fare un film e quindi si mettono in discussione ma questo tentativo di appropriarsi dei media e questa però lì nel 68 è soltanto il prodromo di una storia che invece avviene qualche anno più tardi quindi in realtà questo il portato culturale di questa trasformazione noi ce l'abbiamo quando cominciano ad emergere le radio private sostanzialmente prima delle televisioni le televisioni sono prima dal punto di vista cronologico perché Telebiella è precedente alle prime radio diciamo non agli episodi radiofonici ma alle radio vere e proprie che quindi trasmettono in modo consecutivo diciamo per molti giorni per molte ore fanno una fanno delle vere e proprie trasmissioni appunto però la radio è veramente lo strumento in cui questa presa della parola emerge con grande forza forse questo questo impiccio sul prima e dopo lo devo spiegare un momento per gli ascoltatori per il pubblico magari non tutti hanno chiaramente in mente cosa succede il primo episodio che noi possiamo in Italia far risalire alle appunto al radio libere degli anni settanta è l'episodio di Dolci e di Radio Sicilia Libera cioè l'uso che Dolci fa della radio per denunciare l'abbandono dei contadini degli abitanti delle valli del Belice che appunto avevano subito un terremoto e che ancora le case non erano ancora state ricostruite viene utilizzata si decide per come dire avere il massimo della risonanza possibile di fare una trasmissione radiofonica non era una cosa possibile perché la radio era monopolio e quindi fare una trasmissione radiofonica anche se attraverso un piccolo apparecchio militare quindi con una estensione molto limitata ha una grandissima risonanza la cosa interessante è che nel ragionare su questa forma di intervento politico sul territorio prima della radio privata diciamo della radio militare chiusa in un appartamento dove si erano chiusi dentro per evitare l'irruzione della polizia avevano ragionato sul trasmettere dalle acque internazionali quindi fuori dal appunto dal circolo delle acque internazionali che era la stessa cosa che stava succedendo in quello stesso periodo di tempo nel nord dove nascevano le cosiddette radio pirata io non ho trovato nessun tipo di elemento che potesse indicare che si sapesse di quello che stava succedendo a nord in Italia se ne parlava in nord Europa in Italia se ne parlava molto poco c'erano alcuni episodi quindi non so se gli era venuto in mente per lo stessa ragione oppure no questo non sono riuscito a ricostruirlo ma mi sembra interessante che nello stesso periodo accadano delle cose così simili ecco però la radio appunto di Dolci non è una vera e propria radio cioè è un episodio radiofonico trasmettono per alcune decine di ore e dopo la radio viene chiusa e non è che viene riaperta quindi le trasmissioni vengono interrotte dall'intervento della polizia e subito dopo nascono le televisioni via cavo che per una storia totalmente diversa che non c'entra assolutamente nulla che non ha niente a che vedere con l'intervento come dire un intervento sociale o un intervento politico in una situazione di disagio la il modo per diciamo il rifarsi alla libertà d'espressione quindi all'articolo 21 è in qualche modo mettere avanti le mani in quel caso per evitare di essere di essere chiusi su quell'articolo 21 poi nascerà tutta quanta la battaglia per la libertà di espressione quindi prima l'accettazione diciamo così la concessione delle tv via cavo e poi chiaramente la fine del monopolio ma dovrà intervenire la corte costituzionale ovviamente non 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 legifera lo stato ecco io credo che queste cose e e abbiano in qualche modo ci sia in qualche modo una sintonia con quel modello culturale che era nato nel 68 appunto di presa della parola ma chiaramente sono storie diverse Sacchi non aveva non era un rivoluzionario era uno che cercava di fare un business nuovo e aveva trovato un nuovo modo appunto per creare fare quello che sapeva fare cioè la televisione il il punto è che cosa viene fatto poi da quelli che scoprono che possono fare la radio con poche con pochi strumenti con poche con poche risorse che senso si danno che ruolo si danno le radio le televisioni quando Sacchi apre la strada e si scopre che la televisione può diventare la voce di un quartiere allora lì sì che abbiamo il riflesso vero di questo cambiamento di questa profonda trasformazione culturale che è innescata nel 68 ma che nasce evidentemente anche prima insomma è il portato di un processo più lungo e che è dato sia dall'essere completamente immersi in questo flusso mediale quindi avere una conoscenza e un'abitudine con quegli strumenti sia dall'altra parte con un cambiamento di prospettiva e quindi una rottura delle gerarchie sociali e così via non so se ho risposto oppure se ho detto troppo ho detto troppo poco non ho idea ma forse ho parlato troppo però quindi dimmi tu io direi fare un'ultima domanda che cerchiamo di contenere magari in tempi non troppo lunghi per poi aprire Sara cosa dici per poi aprire la discussione assolutamente c'è un tema che in parte hai richiamato anche nell'ultima parte della tua risposta alla domanda di Sara c'è un tema diciamo così di lungo periodo che attraversa o almeno che mi sembra attraversare un po' la storia che tratteggi ed è quello appunto che riguarda il rapporto tra media e politica o meglio tra la questione del controllo dei sistemi dei mezzi di comunicazione da parte delle istituzioni naturalmente è un fenomeno che conosce declinazioni molto diverse dalle diciamo così dalle attenzioni del giovane Andreotti sottosegretario della presidenza del consiglio nei confronti del cinema dell'immediato dopoguerra fino che so alla legge mammi del 90 dal ruolo dalla funzione dello Stato come finanziatore e come censore del sistema cinematografico fino al braccio di ferro che ricostruisci tra Ciampi e il Parlamento all'inizio degli anni degli anni 2000 per la legge di riordino del sistema dell'informazione cosa ci puoi dire in termini generali della dinamica che ha legato e diviso il mondo della politica delle istituzioni a quello dei mezzi di comunicazione vengo diciamo così alla domanda a cui hai già detto che non si può trovare risposta ma ti do quattro minuti per trovarla lo stesso quanto la politica ha plasmato sostanzialmente l'universo mediale italiano e quanto invece al contrario l'orizzonte mediale italiano ha condizionato l'evoluzione della politica nazionale una comoda domanda da milioni di dollari che puoi tranquillamente a cui puoi tranquillamente rispondere in 5 minuti sì no ma diciamo che forse la risposta migliore è è andata via la connessione non riesco allora no veramente una domanda da milioni di dollari diciamo così che c'è un che c'è appunto un braccio di ferro costante questa tensione tra un tentativo di controllo nazionale dello Stato e invece il tentativo di svincolarsi da questo controllo da parte di alcuni attori del sistema mediale non di tutti gli attori del sistema mediale è molto è molto marcato da sempre e io credo che ci siano due elementi molto importanti che bisogna tenere presente il primo è che c'è una continuità istituzionale da questo punto di vista cioè c'è la continuità dello Stato nel senso che il modello mediale italiano il modello pubblico mediale italiano si forma negli anni del fascismo e gli uomini sono continuano ad essere quelli ma anche la convenzione viene lasciata la convenzione tra Stato e Rai viene lasciata valida per un periodo lunghissimo di tempo e non viene modificata proprio quasi no a segnare questa continuità o almeno a dire va bene quel sistema è funzionale comunque anche al nuovo Stato democratico repubblicano che si sta formando e che comunque deve tenere sotto controllo i media perché abbiamo capito quanto sono importanti non è un caso che la democrazia cristiana abbia sempre i ministeri che controllano quel ramo diciamo così del appunto controllano la radio televisione però allo stesso tempo c'è l'autonomia autoriale di chi sta dentro poi la televisione che in qualche modo spinge per creare qualche cosa che non sia totalmente controllato allora questo è veramente una dinamica costante che attraversa molti con tanti episodi diversi che ovviamente possiamo potremmo insomma elencare ma dai più clamorosi come dire che tende a mettere in disparte i programmi più e via non so se mi vedete ancora perché io vi vedo bloccati te la sei chiamata perché stavi avendo veramente problemi di connessione Andrea perfetto allora devo ripetere da dove ti abbiamo sentito all'ultimo minuto andavi e venivi adesso sei tornato i casi più eclatanti ok dicevo sorta di tira e molla di braccio di ferro come lo volete chiamare appunto potremmo fare degli esempi insomma no dagli episodi di censura ne so canzonissima di Dario Fo per dirne una famosissima ma anche l'uso come dire del palinzesto no per cui quando nasce il secondo canale la tendenza è quella di avere comunque il pubblico nazionale e quindi di usare in modo non competitivo i due canali diversi per abbracciare il massimo del pubblico possibile ma allo stesso tempo i programmi più innovativi più scomodi più sperimentali e così via vengono messi in seconda serata oggi si direbbe sul secondo canale cioè sul canale che veniva visto di meno quindi c'è sempre questa complementarietà e c'è un uso politico diciamo così del mezzo allora questo questo è il primo aspetto dicevo questa lunga storia questa continuità col modello nato già appunto durante il fascismo la seconda questione che si lega a questo è il fatto che c'è il monopolio pubblico e che in Italia è inteso come appunto una forma di controllo da parte dello Stato perché è al servizio dello Stato tanto è vero che il nominato dal governo non dal Parlamento la grande il grande cambiamento della metà degli anni 70 con la legge di riforma del 75 è proprio il fatto che venga incaricato il Parlamento di nominare il Consiglio d'amministrazione quindi la dirigenza il vertice della RAI poi da lì però di nuovo per questo sistema di continuità interno a quel punto al modello aziendale quella che doveva essere una garanzia di pluralismo si trasforma invece in una forma di controllo ancora più accentuata quindi vedete come queste due cose continuano a rimanere sullo stesso piano e poi c'è poi c'è un terzo elemento che è totalmente come dire che rompe completamente questo schema e cioè il fatto che comunque la politica italiana non tiene in grande considerazione non è capace non saprei dare una risposta perché qua ci vuole appunto uno storico politico per dare un giudizio ma comunque controlla male questo strumento e quindi prima di arrivare ad una legge tante le leggi che si fanno non tengono conto delle trasformazioni industriali che stanno nascendo quando si fa la legge del 75 si fa in modo di controllare quello che era già nato cioè le emittenti via cavo ma non si fa in modo di immaginare il possibile sviluppo delle reti via etere perché quello lo si dà proprio come una cosa che non succederà e di fatti l'anno dopo invece la corte costituzionale interviene e abbatte il monopolio e passano e bisogna arrivare fino al 1990 poi per legiferare di nuovamente quindi c'è questo problema e nel 1990 di nuovo stavano nascendo appunto le reti satellitari eccetera e di nuovo si legifera in quella direzione ma non si legifera mai in avanti si regola quello che era alle spalle perché quello che era alle spalle a quel punto bisognava necessariamente regolarlo in qualche modo perché era completamente sfuggito al controllo alla fine degli anni 70 torniamo a una cosa che ho già detto io credo che alla fine degli anni 70 anche questa dimensione come dire politico istituzionale sia il segno di un paese che sta cambiando profondamente e che in qualche modo reclami in cui gli attori economici reclamano una autonomia una indipendenza rispetto al controllo politico e non vogliono proprio essere controllate come se il mercato fosse stato completamente liberato e si muovessero come dire secondo logiche puramente di mercato da questo punto di vista non mi sto riferendo a Berlusconi attenzione mi sto riferendo a quello che succede sì eh mi avete perso ebbè hai detto Berlusconi si è bloccato tutto ok allora non so non so se mi sentite ti risentiamo ti abbiamo riperso adesso eh accidenti allora faccio col telefono vediamo se col telefono mi funziona meglio in un momento scusate il problema ma no però adesso vi rivedo forse adesso rifunziona senza problemi ti risentiamo scusatemi ma ho una rete un po' ballerina che il sto riferendo appunto non mi riferivo appunto a Berlusconi come capacità o imprenditoriale no ma mi sto riferendo a quello che accade immediatamente prima cioè tra niente Andrea secondo me devi fare questa operazione di passaggio al cellulare perché sta diventando un po' complicato seguirti nel frattempo mentre fai questo passaggio io invito ehm il pubblico presente a iniziare a porre le domande via chat così iniziamo a raccoglierle e poi le giriamo ad Andrea e accendi il microfono ecco ok perfetto ok allora aspetta che però ok mi sentite comunque o sentite l'eco benissimo adesso perfetto allora dunque adesso devo riprendere il filo del discorso ed è ecco stavo dicendo che non mi riferivo quando parlavo di dinamismo dell'imprenditoria della piccola imprenditoria così non mi riferivo al appunto a quello che fa Berlusconi a partire dagli anni 80 ma mi riferivo a quello che succede nel bienio precedente perché c'è prima come dire che Berlusconi sistema un modello industriale nuovo e qua c'è una grande capacità di innovazione perché come dire trasforma un sistema industriale molto disorganizzato invece in un modello industriale verticale in cui tutti quanti gli elementi con il telefono la doppia connessione non so come non so come come fare allora siccome capisco che ogni volta che dico la parola Berlusconi si blocca tutto non lo dico più e e e lasciamo perdere questa cosa che magari vi leggerete nel libro ma comunque fidatevi il per il momento fidatevi semplicemente cioè il la questione della diciamo come dire della spinta dell'industria televisiva che è molto simile alla che io vedo molto simile alla spinta della cosiddetta terza Italia avviene appunto alla fine degli anni settanta prima che Berlusconi diventi un imprenditore televisivo di taglio nazionale e lui fa semplicemente mette a sistema un modello industriale che già era presente in tante piccole realtà riesce a metterlo a sistema e con una diciamo forte spregiudicatezza ehm un imprenditore lavora proprio sul confine tra illecito e l'illecito illegale e l'illegale perché non c'è una regolamentazione e con ben sapendo che la forza di questa economia nuova che si sta creando imporrà delle scelte alla politica e questo è diciamo è poi l'andamento degli anni successivi ok spero di aver più o meno risposto che si sia capito qualche cosa e niente mi dispiace ma ogni tanto mi capita grazie anche esatto per lo sforzo telematico mentre invito nuovamente a chi volesse porre delle domande a farlo via chat allora ne è arrivata una la leggo subito Francesco Altamura chiede ritiene che la costituzione delle sedi RAI regionali nel 1979 abbia contribuito ad avviare una nuova sensibilità nel raccontare i territori pensa ad esempio al recupero di tradizioni popolari e cultura orale decisiva nel tentativo di costruzione di identità culturali su base locale siamo alla RAI3 pre Guglielmi vai esatto sì esatto rimbombi ok Andrea San Giovanni l'altro ha lasciato la riunione è bellissimo questa cosa essere due contemporaneamente è una cosa meravigliosa allora sì è una è una bella domanda credo che su questo in realtà dovremmo ancora lavorare molto per avere delle risposte certe nel senso che studi sulla RAI3 pre Guglielmi ce ne sono pochi anche perché le sedi regionali sono non mi sentite più ah no mi sentite ancora sì perché le sedi regionali non hanno conservato i materiali insomma il materiale molto di questo materiale è andato disperso quindi è difficile riuscire a fare qualcosa allora credo che quella era come dire la mission di quella di quelle emittenti ma anche quella arrivava non solo dopo l'istituzione delle regioni ovviamente ma soprattutto dopo le esperienze delle televisioni locali che in molti casi facevano esattamente quel tipo di cosa le televisioni locali facevano lo sport che è un diciamo un collante identitario sul piano locale la politica locale che la televisione nazionale non faceva e poi in molti casi facevano queste trasmissioni come dire che oggi chiameremmo folkloristiche ma che allora evidentemente invece cercavano di mantenere vive un mondo che stava scomparendo vi faccio un esempio io insegno in Abruzzo e conosco quindi un po' la realtà abruzzese ho visto qualche trasmissione tra l'altro nemmeno degli anni 70 ma dei pieni anni 80 di emittenti locali che facevano proprio facevano vedere il mondo contadino tutte queste cose che erano già scomparse in realtà non è che c'erano più però cercavano di mantenere viva questa tradizione perché immaginavano che la loro identità fosse collocata in quel segmento come dire di società la stessa cosa ha fatto in parte la RAI la sede regionale della RAI facendo delle raccolte anche molto belle di testimonianze sull'emigrazione per esempio che però appunto ripeto sono andate perdute credo insomma io non ne ho trovato non sono poi riuscito a trovarne traccia e credo che questo sia capitato in molti casi quindi il tentativo è stato in parte quello ma è stato un tentativo che bisogna interamente studiare perché non è che ne abbiamo non è che ne sappiamo tantissimo questo le sedi le le la diciamo la RAI 3 poi invece per quanto riguarda i centri di produzione dislocati da da Roma questa è un'altra è un'altra questione ancora e sicuramente propongono dei modelli diversi di spettacolo e così via ma non diciamo delle identità culturali nuove per esempio centro di produzione di Milano ci fanno è un centro di produzione che serve a fare molti spettacoli e così via non è che però crea un contraltare al modello identitario anche perché il modello identitario diciamo della RAI doveva essere quello nazionale doveva costruire un'identità nazionale è vero che siamo alla fine degli anni settanta quindi ormai questa mission di servizio pubblico sta un po' scolorando però è ancora l'idea è ancora quella nazionale paradossalmente queste identità regionali si trovano invece molto di più nella RAI dell'inizio nei programmi RAI dell'inizio della televisione quando era come se la televisione stesse andando a cercare l'Italia un'Italia nuova e la dovesse mostrare agli italiani quindi pensate semplicemente al famosissimo ciclo di trasmissioni di soldati che va alla ricerca dei sapori genuini alle foci del po' ecco allora quello è un esempio meraviglioso di questo tipo di racconto in cui soldati va proprio a cercare la cultura locale attraverso le tradizioni gastronomiche lui cerca proprio la cultura locale di un mondo che fra l'altro già sta scomparendo perché siamo proprio negli anni di passaggio al miracolo economico quindi lì c'è ancora molto di questa cosa ma perché appunto il modello era quello di una RAI diciamo che per semplicità chiamiamo pedagogica e che voleva costruire una identità nazionale attraverso il pubblico attraverso la lingua ma anche aprendo squarci su una realtà aprendo diciamo finestre su una realtà che non tutti conoscevano senti su questo mi approfitto posso chiederti una cosa veloce visto che hai attraversato insomma più di mezzo secolo di storia d'Italia dal punto di vista delle fonti dove ci sono dei buchi e dove ci sono delle praterie non so come dirlo cioè dove hai fatto davvero fatica perché questa è una cosa utile perché no appunto si continua a dire che sono fonti che non vengono usate però poi magari sono fonti che non ci sono come nel caso della domanda di Francesco un problema grossissimo è sulla radio la radio c'è veramente ci sono veramente dei buchi enormi perché le trasmissioni non venivano registrate moltissime trasmissioni non venivano registrate anche sulla televisione diciamo dei primi anni è lo stesso tipo di problema molte trasmissioni non sono registrate quindi non abbiamo materiali oppure sono in pellicola e non sono stati riversati dalla RAI quindi anche se uno li trova nell'archivio RAI non se ne fa niente perché se non li riversano non puoi vederli probabilmente ci sono anche siccome l'archivio della RAI non so tutti sanno come diciamo è nato per l'uso interno della RAI quindi ovviamente non per finalità di ricerca storica e quindi ovviamente si trova soltanto ciò che viene utilizzato e viene riversato soltanto ciò che viene utilizzato quindi per esempio adesso siccome stanno da anni facendo questi programmi di recupero dell'archivio dei programmi di varietà e così via troviamo molto varietà però magari non troviamo invece le inchieste perché o i servizi giornalistici quelli non erano interessanti non sono interessanti non si possono utilizzare quindi non conviene investire soldi per recuperarli e poi ci sono proprio parti diciamo al ricercatore non è dato l'accesso all'archivio fisico è tutto quanto un archivio dematerializzato quindi c'è soltanto ciò che è stato immagazzinato dentro lo schedario elettronico dentro il database e poi che può essere consultato in appunto in diverse versioni ma prima di tutto in una versione molto con uno streaming molto frammentario per capire un po' di che cosa si tratta e quindi in realtà non abbiamo veramente in alcuni casi non abbiamo veramente accesso alle fonti questo per la parte più diciamo più antica e per quanto riguarda la televisione commerciale è invece o conosci qualcuno l'archivio Mediaset esiste o conosci qualcuno che ti ci fa entrare o se no niente e basta perché ma legittimamente è un archivio privato e quindi le radio locali sono un fenomeno interessantissimo ma lì devi avere la fortuna che qualcuno ha proceduto ad una raccolta delle audiocassette su cui magari registravano le cose e così via e quindi è del tutto come dire casuale l'avvicinamento e la stessa cosa vale per tutta quanta la stampa popolare diciamo così cioè se io dovessi fare una ricerca su settimanali popolari oggi gente per non parlare di altre cose ancora posso far fatica a trovarli fumetti nemmeno a parlarne fumetti non ci sono biblioteche ce n'è una a Milano che però non so quanto abbia diciamo la collezione non intendo i libri sui fumetti intendo proprio gli albi lì di nuovo praterie esterminate quindi in realtà c'è molto da fare anche semplicemente nella raccolta documentaria uno dei problemi più grossi che io ovviamente non mi sono posto per un libro di queste dimensioni ma se dovessi fare un lavoro diciamo puntuale su un aspetto specifico mi dovrei porre è appunto la possibilità di accesso a determinate fonti in molti casi non ci sono sono molto frammentarie per esempio periodici popolari esistono magari nelle biblioteche nazionali ci sono magari anche in alcune locali molto ben organizzate ma spesso sono frammentari quindi boh non è che puoi fare un lavoro a tappeto quindi diventa tutto molto più complicato e questo la dice lunga sulla sottovalutazione della cultura popolare in senso alto diciamo non in senso deteriore da parte non solo diciamo degli studiosi ma anche delle istituzioni che sono preposte alla raccolta documentaria e alla conservazione questo credo che sia un segnale molto chiaro del come dire dello stato del livello degli studi di questo di questo genere anche delle possibilità enormi potenzialità possibilità reali boh riusciamo a fare anche l'ultima domanda Maurizio? sì io direi l'ultima senz'altro sì Maurizio Brugnialti chiede ai due San Giovanni esiste secondo lei una correlazione fra ascesa del digitale dei new media progressivo calo del peso della tv generalista ed indebolimento del berlusconismo soprattutto in ambito politico noi ti salutiamo perché se devi ridire Berluschioni scompario scompario allora oh che bella domanda dunque diciamo che non so mica rispondere così in modo secco veramente credo che sia più una domanda a cui bisognerebbe cercare una risposta con una ricerca apposita tenderei a non sottovalutare troppo la diminuzione del peso della tv generalista in Italia che è una cosa che si sta diciamo sta accadendo negli ultimi anni e se noi diamo per diciamo decennio berlusconiano gli anni 94 2004 non ci siamo la televisione generalista era ancora al centro del sistema mediale italiano quindi da questo punto di vista direi che non c'è questo rapporto diretto è una cosa che accade negli ultimi negli ultimi tempi e penso che in realtà il rapporto diciamo io sono abbastanza convinto ma non ho come dire delle cose che lo possano dimostrare è una mia convinzione da osservatore semplicemente che il berlusconismo non sia tanto legato alle capacità del politico berlusconi quanto più ad una cultura diffusa che sicuramente viene influenzata nasce viene coccolata accudita dalle televisioni commerciali ma che non risiede soltanto nelle televisioni commerciali è qualcosa di più articolato che diciamo viene da lontano e a cui berlusconi e le televisioni commerciali danno una voce diciamo così ma è qualcosa di più ampio quindi non vedo questa correlazione diretta e non vedo nemmeno questa correlazione diretta con l'esplosione del digitale anche perché fra l'altro quando arriva il digitale in Italia quindi i primi esperimenti i forti investitori tra i forti investitori c'è anche Berlusconi Berlusconi fa il portale Jumpy e il portale Jumpy è quello che fa rivedere in diciamo sulla rete sulla rete insomma nel web quel web che c'era allora il grande fratello che è la che è come dire la forza anche del grande fratello perché di me è transmediale quindi non sappiamo quante persone lo vedessero ma c'è questo tentativo di colonizzare un nuovo segmento come dire dell'ecosistema mediale anche se a me il termine ecosistema non piace però l'abbiamo usato all'inizio lo riusciamo alla fine così chiudiamo il cerchio allora io guardo se ci sono altre domande non mi sembra ci eravamo dati le 12 e 30 come fine di questa chiacchierata io magari chiedo solo un'ultimissima cosa anche per dare un senso al al gioco che aveva lanciato che aveva lanciato Sara e che appunto riguarda ancora le fonti anche se prese da un altro da un altro punto di vista perché nel nel tuo libro c'è c'è un po' di tutto metti Pippo Kennedy Show accanto a Radio Radicale c'è c'è tv Sorrisi e Canzoni vicino a Umberto Eco quindi insomma ce n'è per per tutti i gusti e mi chiedevo soprattutto per la seconda parte del tuo lavoro dove appunto più ti avvicini a noi e più sembra che ci provi gusto e più la prosa si non dico si allunga ma il materiale che hai per le mani è davvero davvero tanto è davvero importante è difficile da governarlo ma mi pare che lì si inserisca anche un altro livello un'altra questione quella del del tuo vissuto personale di di cittadino appunto di di italiano che ha anche un rapporto privilegiato o forse ha avuto un rapporto privilegiato con alcune tipologie di fonti che poi riutilizzi e quindi ecco volevo banalmente chiederti per chiudere come davvero come ti sei orientato ci hai raccontato qualcosa delle fonti disponibili di quelle indisponibili invece tra quelle disponibili come ti sei orientato e quanto Andrea San Giovanni c'è nella scelta ovviamente di alcune fonti abbiamo capito forse l'hanno capito anche i nostri amici che ci seguono che c'è parecchio fumetto e immagino che ci sia molto del lettore del lettore San Giovanni sì questo senz'altro allora diciamo così che è inevitabile che in una cosa di questo tipo che coinvolge anche appunto la cultura diffusa e l'immaginario gli immaginari ci sia molto di chi scrive questo è evidente ho cercato il più possibile di contenere in questo aspetto e quindi per esempio non so sul piano musicale c'è sicuramente una preponderanza di alcuni cantanti di alcuni cantautori ma ho cercato di guardare anche ad altre cose delle cose che non ci sono non è il tuo cantante preferito l'hai fatto non è il mio cantante preferito ahimè no no però per esempio ecco per esempio proprio per gli anni 80 per esempio non ho citato i righeira mettiamo conto che invece penso siano importanti di citare non perché sia un non perché abbia l'intera discografia dei righeira ma perché appunto è uno di quei casi in cui una musica pop di ascolto facilissimo può invece dare delle indicazioni su un sentimento diciamo collettivo diffuso che non era semplicemente di pura distrazione ma c'era un fondo come dire di quasi quasi di amarezza quasi di nostalgia dietro che è lo stesso fra l'altro che si trova in un non so nel fin sapore di sale mettiamo conto no che è più o meno degli stessi anni allora quindi c'è ovviamente del mio ho cercato consapevole di questa cosa di tenere a freno questa dimensione la cosa invece che ho volutamente conscientemente fatto è stata quella di mettere molti fumetti qui non solo per una mia diciamo passione una mia inclinazione di lettore ma anche perché appunto credo che siano una di quelle fonti estremamente sottovalutate questa cosa l'avevo già fatta appunto nel libro precedente che parlava appunto degli anni dalla fine dell'ottocento fino alla alla seconda fino alla fine della seconda guerra mondiale e anche in quel caso avevo utilizzato laddove era possibile fumetti pur non essendo un lettore di Flash Gordon diciamo perché credo che questa sia proprio una mancanza credo che questo diciamo ci troviamo di fronte ad una sottovalutazione di un di uno strumento diciamo di un medium molto popolare e che quindi ci può dire delle cose sul diciamo sulla cultura popolare o sull'immaginario popolare il modo in cui Tex rilegge il western e i luoghi comuni del western nell'Italia degli anni 40 e 50 sulla scorta soltanto di quello che si vedeva al cinema perché gli autori di Tex non avevano mica le fotografie non avevano mica andati a vedere il Grand Canyon conoscevano quel pezzo di mondo che gli mostrava John Ford e allora questa cosa mostra che dentro quell'immaginario diciamo così western c'è però molta Italia c'è il modello maschile ci sono i rapporti di forza delle classi c'è una sorta di giustizialismo popolare di fondo cioè ci sono tante cose che noi dovremmo essere in grado da storici di rileggere per comprendere meglio che Italia era quella l'Italia degli anni 50 nella fine degli anni 40 e quindi ho fatto questo sforzo e poi non ultimo c'è anche una questione di fonti cioè di metodologia delle fonti i fumetti sono strumenti seriali sono prodotti seriali e usare un prodotto seriale come fonte per la storia è un bel guaio è un bel macello allora era l'ho detto in modo molto da storico professionale proprio e pone diciamo così delle sfide inedite ecco e questo mi interessava molto è chiaro una cosa che non potevo fare in un testo di questo genere che ci sono però alcuni accenni qua e là a questo tentativo di utilizzare il fumetto anche da questo punto di vista fra l'altro mescolando di nuovo alto e basso hai fatto bene a mettere insieme queste cose molto diverse nella tua citazione quando hai elencato le cose che ti ho utilizzato perché questa è un'altra cosa che io penso sia fondamentale se noi studiamo se cerchiamo di avere un approccio diciamo culturale di storia culturale ad ampio spettro non possiamo guardare soltanto ai grandi romanzi dobbiamo guardare a tutto quanto quel patrimonio sapendo che i grandi romanzi non sono l'unica cosa che viene letta e che probabilmente non sono la cosa che viene letta con più piacere ecco poi magari il lettore professionale non te lo dirà mai che si diverte di più a meno che non si chiami Umberto Eco non ti dirà mai che si diverte di più a leggere Dylan Dog di un test diciamo di un grande della letteratura internazionale ma magari ci prova pure lui più gusto a leggersi il prodotto seriale ecco ho avuto questa capacità di dirlo in modo molto chiaro se poteva permettere di un'altro Grazie.